No! 5! Che segna, che segna! Jack, Jack Leon e Max, Jack, Jack Leon e Max Chi è l'intrattenitore che mi tiene per ore Chi si tufferà in una piscina Ringraziando per la gallina Amici, un saluto dal Jack Leon e Max L'intrattenitore che mi tiene per ore Oggi vi tengo per provare TH Flow Abbiamo fatto questo acquisto poderoso Grandissimo attaccante dal Chelsea E vediamo dunque come se la cava oggi in campo Mentre noi invece andiamo ad affrontare la Lazio Iniziamo con un parma che schiera a Shilavet Stamu, arrivo West, Yamarra, Edgar Davids, Roberto Calo, Zidane e Senov Che provano in grattini di posizione Ecco, Semchenko, TH Flow E Elber contro la Lazio di Markegiani La CZ, Linke, Pankero, Pankero, doppio Pankero Almeida, Simeone con 6 sao Gioca è Franza O Franca Simone Inzaghi che è capo cannoniere Abbiamo due giocatori che si contendono Le aggressivi capo cannonieri che sono appunto Elber e Flow Contro Simone Inzaghi Prende la palla La CZ Si lotta per la classifica dei cannonieri Dove non siamo favoriti Fra l'altro il numero uno dovrebbe essere Kluivert Supero capino Simone Inzaghi Quindi vediamo Non volevo prendere Kluivert come questo qua Non che si abbia qualcosa che non va eh Anzi però E quindi vediamo un po' Come si inventa oggi il nostro parlo Soschenko C'è l'azione ma non basta Marchegiani c'è Sono curioso di vedere come se la caverà la Lazio Che salutiamo per l'ultima volta come avversaria Stiamo facendo il tour di saluto Il farewell tour Un po' come i gruppi musicali quando si ritira Ormai non mi ritiro perchè sono appena inizio delle mie carriere E quindi andrò avanti Sembra che su questo gioco Siamo a terza stagione ormai Cala al si pari Cala al si pari Cala al si pari Soschenko Stupendo però Stupendo Soschenko Che segna Che segna Let's go Vabbè il mitico Sheva Gran gol In scatto Attenzione guardate qua Quella parte che ho preferito Questo Giochetto Dice no Preferisco Spostarmi un po' E così segna E siamo in vantaggio Siamo in vantaggio anche Sefchenko Giocatore strepitoso Ma se lascio perdere La tesi di ammarcatore Andiamo per divertirci Ovviamente non è che Deudiamo per forza essere ossessionati Almeno io Sono così ossessionato dal vincere Anche perchè è bello usare Al termare i calciatori Mettere altri Continuo a mettere Elber Quasi forzato Ma che ce la può fare Comunque la Lazio è in partita Io vi invito A lasciare un like al video Per supportarmi Per supportare questo Progetto di playlist Ormai all'episodio 82 Ma arriveremo a 88 episodi In totale Veramente siamo Agli sgoccioli Veramente dopo questa Baccano solo 6 partite E un po' mi spiace Come ho già detto Però se penso che poi Avremo altre carriere Altre cose adrenaliniche Sono sempre più felice Perchè ovviamente Sono giochi di infanzia Sì ma sono anche quei giochi Puoi vedere andare avanti La storia Le carriere Ovviamente Ti ripeto non ho ancora deciso Quale sarà il prossimo gioco Ancora meno Ma poi mi aiuterete voi Ci sarà da scegliere la squadra Come sempre Per tradizione Vuole fare una squadra italiana Qualunque sia il gioco Mi piace vedere Questa squadra italiana Rinforzarsi Per rinforzarsi Comunque sia Pazzesco Ma che azione bellissima Grande flow Dai Elber Segna Elber Questo è un gol Incredibile Ramiro Filippo Zidane È stato perfetto Ma anche lui però Ha iniziato bene Tiro di cattiveria 2-0 sulla Lazio Avevamo fatto una goleada Con la Roma E ora anche con la Lazio Non si scherza Ma certo È veramente un gioco Che adoro io questo Da tutte le possibilità Tattiche Che ti da Quell'1-2 Che non sto usando Neanche tanto Ma quando lo uso Adesso non l'ho usato però È veramente incredibile A livello A livello proprio Di controller in mano È un gioco incredibile questo Ci sono veramente sorpresi Per essere PS1 Era veramente avanti Su tutto Elber Andiamo alla squadra dei due Pancaro Pancaro e Poncaro Eheheheh Eheheh Non mi sia per capire Sembrerà Strano Poncaro è il vero Pancaro classes Adesso Ok, il sedo si destreggia, filtrante per Helder che c'è, bel tiro ma non basta, diamo Flo, cosa si inventa qua, tira, portiere, marchegiani ragazzi, non ci sono dubbi con lui, una Sara Cinesca, portiere che rispetto tantissimo, Helder, ho preso il portiere del Lecce e poi l'ho dato via perché purtroppo su FIFA 2000 mi sono trovato molto male con i portieri, è stato duro, però il portiere è decente, molto duro, corner, si, vabbè ma in FIFA 2000 i portieri sono messi per sciubire gol, perché fanno altro, infatti io vi ricordo che avevo la partita, avevo la squadra con più gol fatti e la squadra con più gol subiti, è il primo posto in Serie A con Lecce, più gol subiti, questo lo dice tanto sul realismo di FIFA 2000 che però è un giorno che adoro lo stesso, non mi stancherei mai di giocarlo a volte che mi piace e mi diverte. Il primo tempo finisce bene, molto bene, secondo tempo cambierò un po' le cose perché se mi ossessiono lo dovrei permettere per forza tutti i costi di avere Helder in campo, invece quando possiamo metterci la macchina da guerra Babangida o Marcellino Salas o la leggenda Ronaldo, il fenomeno, insomma, talmente tante scelte che non devo essere forzato per forza questa cosa che si dà marcatore tanto, come va va, come pensa va, se sei un francese, eccolo la barra, angida, solita macchina da guerra, ma no, non basta, allora, T.A. Flo, oh, whose ball will it be? Ci siamo, eh, arrivare West, attenzione arriva a Grammarè, appunto, Simeone, bella bella sfida questa. Franca, dopo questo tempo ancora nessuno ha capito chi è, anche nei commenti mi dicono, non lo so, è un mistero, se qualcuno lo sa, rispondetemi, chi è questo Franca della Lazio, chi è Franco, chi è lui? Perfetto. Eh, vabbè, terribone. Qui ci sta un 1-2 strepitoso, però non basta. Comunque, è vero che diciamo 2-0, ma la partita è aperta, eh. Anche la Lazio, quando vuole, si prova. Terribone West. Siedo. Comunque, veramente, è bello, perché io ho questa carriera, ormai avete visto che sto velocizzando più che posso, non voglio farle perdere più tempo. ricordo quando postavo 1-2 puntate a settimana, adesso siamo molti più produttivi. Si sente l'area di gran finale, ormai. Ahia, boia, che fallo. E l'asfolter mando con le finali classiche su Euro 2000, che quelle le ho fatte un po' attendere, ma adesso ho ripreso regolarmente. C'erano due carriere da finire, FIFA 99 e FIFA 2001. Il mio pallonetto! E non segna neanche stavolta, riuscirò a fare un nostro pallonetto così, però poi. Spero di sì. Cavolo, che azione strepitosa. Ho esagerato con la potenza, qui è colpa mia, eh. Ho detto, ma ho paura che poi altrimenti li attira addosso, invece. Flo, che è venuta oggi a boia. No, mi chiamateci Ronaldo, ragazzi. Sensazione personale. Arrate che è stanco, Flo. Mi chiamateci Ronaldo, ragazzi. Fenomeno. Per la fine, quando l'ho preso, ero tutto chianto guante. Poi non me ne sono per niente pentito, anzi. Ah, Vangida! Che azione. Mi sto proprio divertendo. Entra Nedved, al posto di Simeone. Ottima scelta, visto che fa la Nedved. Giocatore strepitoso. Cavolo, a volte ammetto che mi piacerebbe fare quella Juve nel periodo, tipo, 2004-2005, per la Juventus V. Però se poi pensi che sui giochi, non mi ricordo fino a quale gioco, eri costretto a usare la squadra originale, poi ti passa la voglia di fare il vero team. Certo, ovviamente, PES 6 sembrerebbe l'opzione più logica, però forse potrei fare un altro gioco precedente, tipo PES 3. Attenzione, Ronaldo. No, non ho capito che aveva segnato. La Vangida. Ah, disperazione sul mio volto. Qua si doveva segnare, stazione. Non che il 2-0 sia problematico, anzi, però si gioca sempre per far bene. E non sono neanche un tryhard io, è proprio per niente, veramente. Non è di, no, per spaccare tutto, no. Però, voglio giocare bene con questo parlo. E mangiarsi i gol così mi spiace. Vedo, davvero, non è questione di fare i tryhard, cioè quelli che devono giocare duro e crudo, perché devono vedere che sanno fare cose. Io non so fare, però... Andiamo al Rà. Ok. Eh, allora, sembra giusto. Quindi, passiamo tutta la giornata con due giocatori che marcano un po' due giocatori. Da Lazzi, da Lazzi. Sefsenko, eccolo qua. Sbarcatissimo. E non so perché non l'ha tirata, non so se avete visto da quant'è che avevo tenuto premuto. Cioè, avevo già la pressione. Eh, Ronaldo. Però non c'è nessuno. Ronaldo di potenza. Beh, non è una partita facile, comunque, dal punto di vista. A Lazzi sto facendo bene. Ok. Forse ancora un'azione ci sta? Ce la facciamo? No, va bene così, va bene. E viaggia come saltellano tutti di gioia. E poi si stufano, non festeggiano più, se ne vanno come dei robot. Dove dire Uttomi se ne va. Quattordici tiri e tre, per la mia merita. Sefsenko ed Elber, vabbè. Elber comunque il suo gol l'ha fatto. Siamo in Zaghi, abbiamo fermato. Nella classifica marcatore, ma è un momento di essere ossessionato da questa. Allora, vediamo un po'. Dunque, Ajax-Marsilia 2-2, Inter-Manchester 1-0, Leeds-Leverkusen 3-1, Juventus-West Ham 3-2, Bayern-Monaco 1-2, ancora perde Bayern-Monaco, Roma-Barcelona 0-3, Real Madrid-Celsi 0-3. Quindi, insomma, interessantissimo. Stanno andando così ai marcatori. Vabbè, Kluivert è irraggiungibile ormai, tre gol di scarpo. Vabbè, va bene così, a me lo giochiamo per divertirci senza pensarci troppo. Arratterò i giocatori che stanno più bene o che voglio mettere in campo. Ci vediamo alla prossima, dai. Sei partite e concludiamo che questo. Vi vedete con me fino alla fine. Ciao!